buongiorno sono stefano mazzariolo questo è un rolex day date referenza 18038 con il logo ua e questo delle condizioni non se ne sta nemmeno a parlare è un orologio nuovo fondo di magazzino purtroppo senza i documenti ma è un orologio veramente pazzesco logo ua e questi erano destinati a regali di stato normalmente tutte le fotografie di questo orologio la descrizione è a vostra disposizione nel sito vintage watches punto it grazie